Ci sentiamo circondati dall'affetto di tutti e dobbiamo solo ringraziare questa forza che tutti ci infondono attraverso i messaggi social. Quindi siamo orgogliosi di Tommaso prima di tutto e poi di quello che sta facendo, anche se lui non c'è più, lo sentiamo ogni secondo qua vicino a noi. Quindi siamo supportati da questa presenza che sentiamo ogni istante. Tommaso Fabris in questi giorni è entrato davvero nel cuore di tutti. Il suo sorriso, il suo animo buono, l'affetto per la famiglia e gli amici, il suo amore per il basket, tutto questo è Tommy, estratto di energia, di voglia di vivere, di determinazione, di forza. Ma tutto questo non è bastato per sconfiggere la malattia, quel maledetto meningococco che l'ha strappato troppo presto ai suoi familiari e agli amici. Tommaso ha lottato con tutte le sue forze fino alla fine, al suo fianco la mamma, Emanuela, il papà Cristian, il fratello Alessio. Fuori le veglie di preghiera e la speranza di rivederlo sotto canestro, a fare ancora tanti punti. Già il canestro, la sua passione, dentro a un palazzetto oppure nel cortile di casa, immancabile il basket nelle sue giornate. Ora il giovane cestista vivrà in altre cinque persone. Gli organi sono stati espiantati nel corso della notte all'ospedale di Bassano da diverse echipe di chirurghi. Insieme con il fratello e il papà abbiamo deciso che la sua volontà sarebbe stata quella di poter donare quello che a lui non serviva più. Lui stesso avrebbe deciso, avrebbe fatto questa scelta e quindi noi siamo solo portavoci della sua volontà. Non è la volontà nostra ma siamo certi che è la sua volontà e non nostra. Tommaso ha fatto canestro nel cuore di tutti. Il suo amore in questi giorni si è propagato a macchia d'olio. Sono innumerevoli le testimonianze di affetto che giungono alla famiglia in queste ore. È un abbraccio senza fine quello di Tommy, un abbraccio che non finirà mai. Tommaso è il nostro Tommy, di cui dobbiamo dire non forza Tommy ma grazie Tommy adesso perché è lui che ci sostiene in questo momento così triste e così delicato con il suo solito modo di fare un po' non invadente ma umilmente ci sembra di vedere il suo sorriso e il suo sguardo così amichevole in ogni situazione. Grazie Tommy, siamo orgogliosi di te e di quello che ci hai fatto e quello che ci hai donato in questi pochi anni. Grazie a tutti.